Partiti per il premio d'estate 2014. Non brillantissimo al via collatera al rischio, mentre dal gruppo c'è Kaspersky che ha avanzato su Malittle Jeremy che va con tutto il suo impegno a cercare lo spazio per andare lui a portarsi in avanti sullo stesso Kaspersky che molla la presa. Al terzo Nayef Dancer, poi Death Drive, Mujas e Big Bradon. Come da copione Malittle Jeremy in testa a scandire frazioni rapide. Al secondo Kaspersky in giubba bianco e azzurro. Al terzo in verde Nayef Dancer sulla giubba arancia e la tracolla blu di Dress Drive che all'interno Mujas in giubba beige e nera. Poi Big Bradon che ha di dentro il pentagono con il cap giallo. Ultima posizione per il favorito con l'atera al rischio. In giubba scacchi gialli e blu. Siamo già entrati in rete d'arrivo. Gli 800 metri che vedono in vantaggio Malittle Jeremy sempre generosamente, mentre Kaspersky rimane secondo su Nayef Dancer che è terzo. Dress Drive che lo segue da vicino. Pentagono che si butta all'interno tra lo stesso Dress Drive e Mujas. Poi ancora con l'atera al rischio che viaggia all'argo di tutti anticipato da Big Bradon. L'attacco di Kaspersky che proprio prima dei 400 rileva al comando Malittle Jeremy su Nayef Dancer. Pentagono che trova la luce tra i due all'argo Dress Drive ed all'argo di tutti con l'atera al rischio. Kaspersky che è passato e prova a giocare in anticipo sul ritorno dei suoi avversari. Al secondo pentagono Mujas per via interna e poi ancora lo stesso Nayef Dancer. Kaspersky da solo verso la meta. Mujas che ci prova a andare a riprendere. Kaspersky che è davanti su Mujas che gli scatta addosso. Kaspersky che dice di no a Mujas. Al terzo pentagono poi ancora Nayef Dancer. Più dietro Dress Drive e gli altri tre. Kaspersky a quota bella faccia rotta. Umberto Rispori che colpisce con il full step in the sand della nuova sbarra che neanche l'allevatrice. Il team Botti-Brivio al training.